La cura principale La potenza creatrice del pensiero Amadeus Wolben, Mediterranea, a cura di Vubi Di fronte a una malattia, la cura principale consiste nel tuo atteggiamento positivo verso di essa. Non lasciare che i tuoi pensieri siano complici del male e ciò verrebbe se tu lasciassi che essi fossero completamente assorbiti dalla malattia. Al contrario, qualora essi fossero i responsabili del male dovresti fare in modo che invece si convertano in aiutatori per il recupero della salute. A questo fine pensa alla salute. Questa espressione nel linguaggio comune vuole significare non ti curare di altro che di star bene. Meglio, distogli tutti i tuoi pensieri dal male per concentrarli nel fatto che la tua volontà può scatenare le energie, le forze e le risorse guaritrici che sono dentro di te. Ricorda che sia per ammalarsi come per guarire molto dipende da noi. Il pensiero è una tale forza operante da influenzare il nostro stato fisico e non solo. Il pensiero arriva a condizionare il nostro mondo psichico, il nostro umore e si spinge a influire perfino in quelli che ci sono intorno. Cerca di vedere il tuo corpo non come della carne e delle ossa, ma come una sostanza la cui forma può essere modificata come cera nelle mani del modellatore. Il nostro corpo è in realtà un vortice di energie che, se ben governato dalla mente, sarebbe sempre in perfetta armonia. Il pensiero lo potrebbe modellare a suo piacimento. Impara a pensare e a vivere soltanto in maniera positiva. Saprai così creare col pensiero situazioni serene e positive.